Piegamenti, tra due panche. Mani sul bordo di una panca, piedi che appoggiano sull'altra, il corpo nel vuoto. Attenzione! Mai estendere completamente i gomiti. Questo aiuta a tenere il muscolo tricipite sempre in tensione. Mantenere i gomiti più stretti possibile vicino al busto, mai allargarli verso l'esterno. Inspirare e flettere gli avambracci, facendo seguire un'estensione. Espirare alla fine del movimento.